Io ho sempre sostenuto che presentando una macchina chi la guarda faccia a e basta, a e basta, a e basta. Se invece comincia a parlarne, a trovare delle giustificazioni, dei motivi, delle cose, segna che l'automobile non è quel gran che. La puntaccia dal punto di vista dello stupore iniziale, positivo come negativo, perché è uno stupore che a volte era tutt'altro che positivo. E questo l'ha conservato abbastanza, anche oggi, anche il giovane che non c'era all'epoca, che vede la puntaccia, oggi anche lui fa a e basta, a e basta, a e basta. Se invece comincia a parlarne, a parlarne, a parlarne... No, 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 no... No, 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 no aaaah, il last time 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 il last time Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.